Ancora disagi al torrente Sant'Agata. C'eravamo stati un anno fa, oggi siamo tornati sul posto allertati dai cittadini. Da qualche settimana l'odore degli scarichi fognari sta invadendo l'intera zona, abitata da diversi nuclei familiari. Le acque nere che confluiscono sulla strada che copre il torrente vengono scaricate sulla spiaggia adiacente, trovando sfogo direttamente in mare. Numerose le segnalazioni presentate alle autorità competenti perché intervengano ad analizzare il problema attraverso sopralluoghi tecnici, per comprendere se si tratti di tubature interrotte, danneggiate o semplicemente ostruite a causa di un'eccessiva quantità di deflussi, con la presenza delle nuove strutture residenziali. Un problema però che a quanto pare si è solo incrementato perché da anni la gente che vive lungo la costa deve far fronte ogni giorno a questa emergenza, a causa di tubi di scarico non adeguati alle esigenze pubbliche. Il signor Gallina, ad esempio, ci mostra la sua abitazione, proprio davanti alla quale sono state realizzate, anni fa, 5 botole, alle quali corrisponderebbero due camere di ispezione e due pompe di spinta, che al primo intoppo si ostruiscono riversando tutti i liquidi e gli scarichi sulla strada sovrastante e quindi davanti alle abitazioni. Al cattivo odore è impressionante che si ha tutta la giornata. Quando ci sono delle piogge, anche lievi, riesce a tracimare attraverso i pozzetti, dalle camere di ispezione, che sono grossomodo circa due metri per due metri, sono delle vasche enormi. Il disagio è una cosa in vere conda, topi morti che si trovano spesso e volentieri davanti all'ingresso nostro, delle case. Gli abitanti che combattono questa battaglia da soli, senza il sostegno dei rappresentanti locali, chiedono che i tecnici del settore intervengano ad effettuare le perizie e i lavori necessari a garantire l'adeguato funzionamento delle strutture fognare.